Beccato la notte scorsa in viale viaggio pecorino mentre vendeva erba ad alcuni soggetti. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte allo smercio e 50 euro in contanti incassati dalla precedente vendita della droga. A finire in manette, in flagranza, un 22enne incensurato di Catania. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l'arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.